Nel matrimonio Dio si rispecchia nella promessa di fedeltà della coppia, perché anche Dio nella Trinità è comunione ed unità. Così Papa Francesco ha iniziato stamattina la Catechesi dell'Udienza Generale, dedicata appunto al matrimonio e dal suo significato. Davanti ai tantissimi fedeli e pellegrini convenuti in Piazza San Pietro, il Papa ha sottolineato che il matrimonio è una consacrazione ed una missione specifica. Il vero regalo di nozze è comprendere che nell'unione degli sposi c'è il riflesso della Trinità e con la grazia di Cristo gli sposi diventano l'immagine vive e credibile di Dio e del suo amore. Sappiamo bene però, ha aggiunto il Papa, quante difficoltà e prove conosce la vita di due sposi, però l'importante è mantenere vivo il legame con Dio, che è alla base del legame coniugale. E dunque la preghiera, ha detto il Papa, è un aiuto indispensabile per la vita della famiglia, all'inizio e al termine della giornata, prima dei pasti, nei momenti e nei passaggi più delicati della vita. Papa Francesco ha ribadito che possiamo riscoprire la preghiera del Rosario, che ci fa sentire la presenza di Maria, regina della famiglia e modello, insieme a Giuseppe, di ogni nostra famiglia. Al centro poi non può che esserci la celebrazione dell'Eucaristia, vissuta insieme la domenica. Lì, dalla mensa della parola e del corpo di Cristo, gli sposi attingono la forza per amarsi, aiutarsi e perdonarsi nella vita di tutti i giorni. A questo riguardo il Papa ha rivolto un pensiero particolare agli sposi che si trovano in difficoltà, perché Dio, ha detto, possa aiutarli con il suo amore e ricolmarli della sua misericordia. Grazie a tutti.